Musica Ok, dobbiamo indagare su questa zona Graffiti alati, robot in avaria, fratelli enigmisti, il destino di un drone Ok, diamo un'occhiata in giro Agente di pattuglia Qui è tutto tranquillo, incredibile Salve, pattugli spesso in questa zona ultimamente non ho visto nulla di strano Vabbè certo, come no? Controlliamo un po' tutte le zone Che non si sa mai cosa... Uh, un uomo spisolato E gli rubiamo la roba dalla cesta, ma dai E dai, sto cercando di farmi un riposino di bellezza Sono dato qualcosa di strano Vabbè, ho sentito che l'uomo gatto è sparito dalla circolazione da un po' L'uomo gatto Da Sara Banda direttamente È un tizio davvero grosso, anche molto gentile Ma i bambini dicono che può trasformarti in un gatto se lo guardi nei suoi occhi Gatti, un tizio grosso Un momento, non si starà mica parlando di... Che succede? Forse il gattone... Forse il gatto... Oh no! Uh, come non detto Dov'è Akira? Eccolo qua, tra l'altro Allora, forse Akira sa qualcosa Ma la prima cosa che mi è venuta a me in mente È il gattone che abbiamo visto Il gatto che abbiamo riportato qua Magari sto flashando io, eh Può essere In giro c'è un fantasma in fiamme che rapisce le persone È vero, l'ho visto, l'amica della mamma è di un mio amico Il mio papà torna sempre a casa tardi dal lavoro Quindi cerco un ammuleto protettivo per lui Oh, che caruccia Poverina Tu, mercante? Qui nella zona degli ultimi tempi non si parla altro del fantasma rosso Quello che diceva la bambina I bambini del circondario vogliono tutti ammuliti per tenerlo lontano Ma io non vendo roba del genere Ah beh, certo Wow, state cercando delle persone scomparse? Io so chi è stato il fantasma rosso Già lo sappiamo Un amico di mia sorella dice aver visto una sagoma in fiamme rossa e opaca senza gambe Trascinare un adulto Senza gambe? Beh, potrebbe essere effettivamente un'entità invisibile Che succede lì? Che diavolo è successo? Ehi, alt, alt Oh, agente, tempi non perfetto Questo maledetto robot non vuole darmi retta E pensate che l'ho appena fatto revisionare da non crederci Dovranno essere strani segnali che interferiscono con la sua antenna Ok Ma posso? Scusami Ma, tipo Strani segnali Dovrebbe essere in grado di dirci di che si tratta Ah, è vero Possiamo usare il nostro fendente E effettivamente c'è un raggio Di luce che proviene da là Ok, allora Ecco fatto Tutto a posto? Ha smesso finalmente Ma com'è fatto, agente? Non l'hai nemmeno toccato Eppure Fermati robot Così, col cervello Grazie per l'aiuto Chissà se il problema era davvero l'interferenza di segnale Cioè poteva essere il fantasma, no? No, era solo un'interferenza, amico Posso salire? Sì, posso salire Incredibile Penso che non fosse per niente un fantasma Alla fine forse i grandi hanno ragione I fantasmi non esistono Beh, c'ha ragione Grazie dell'aiuto anche solo il pensiero di un fantasma rosso mi paralizza Ma dai Lo so che non dovrei farmi spaventare tanto facilmente Resta pur sempre un poliziotto Esatto Voi sapete qualcosa? Negoziante pessimista Agente, è successo di nuovo Un altro caso di sparizione Oh, lo sapevo Siamo tutti condannati In questo passo spariremo tutti prima o poi Noi lo impediremo Davvero? In tal caso contiamo su di voi Ah beh, grazie Agente, non dirmi che anche tu stai cercando il fantasma Solo i ragazzi credono ai fantasmi I grandi come noi lo sanno che non esistono Solo perché tu non vedi il mondo invisibile che ti circonda Esperto d'arte Vediamo Ti interessa? Hai buon gusto per essere una della polizia Questo murale è stato dipinto da un prominente membro del collettivo artistico avanguardista Parnaso Dicono che quando dipinge lì d'angelo degli uccelli negli volino intorno ammaliati Di liaco, vero? Beh, per essere un graffito Nessuno ha più buon gusto Ma forse tu puoi aiutarmi comunque I membri del Parnaso sono piuttosto solitari Ma io darei qualsiasi cosa Pagherei qualunque cifra per incontrare l'autore di un capolavoro simile Vi prego, trovatelo per me Ma tu capisci che ci stai praticamente chiedendo di arrestarlo, vero? Arrestarlo Mettereste in galera il più grande artista emergente in tutta l'arca Ma non avete un'anima E beh, c'ha ragione Grazie per il tuo contributo Ti faremo sapere quando puoi venire a trovare l'artista in prigione Ma dai Allora, degli uccelli neri volano attorno al sospetto quando dipinge Cerchiamo dei corvi che potremmo coglierele sul fatto Ok Va bene, cerchiamo i corvi Allora Siamo solo al 4% di bonifica Sei dell'unità Neuron, vero? E sei qui per darci una mano Hai scoperto qualcosa di merito ai casi di sparizione? Questa ragazza mi ha appena dato utili informazioni che potrebbero portarci al colpevole Incredibile Dovresti parlare con lei anche tu Potresti farle venire in mente qualcosa di utile Va bene, sentiamo Non vedo la mia amica da 4 giorni Per caso credete che sia una vera e propria sparizione? Beh, potrebbe essere la stessa roba delle mani dell'altra volta Dovevamo andare insieme in piazza dell'armonia questo fine settimana Non mi avrebbe mai dato buca così Ok Non mi hai dato niente di utile Tu invece? Senti, l'altro giorno era sul balcone a godermi il tramonto come ogni sera Era un vero spettacolo Un ricordo che custodirò gelosamente il mio cuore, certo Sigillato da una lacrima solitaria Sì, sì, sì La mente contemplava assorta della bellezza efimera della vita Per poco un urlo straziante non me l'ha fatta fare addosso Ha distrutto tutto Sono corso dove proveniva e ho notato un drone giallo Ha lanciato uno strano alla mente e poi è volato via Ed è stato allora che ho capito Quel drone deve essere responsabile di tutti quei casi di sparizione Non credo Agente, sai cosa fare? Trovare e arresta quel drone Vado ad arrestare un robot con le manette così Stai Come ha fatto ad arrivare lassù Ehi là ragazzi Cos'è successo? Eh oh, il fatto è che abbiamo un drone per pattugliare la zona ma l'abbiamo perso Ah, il drone giallo forse Sono venuto qui a cercarlo e beh, eccolo lì Ah, ok, no, non è quello giallo E non puoi arrampicarti a prenderlo? Non siete addestrati a fare un po' di tutto? Ora, come dovrei fare a raggiungerlo? Stavo quasi per rinunciare ad andarmi È complicato ma non ti arrendere di già Mia sorella qui potrebbe farti avere il tuo drone Tra l'altro potrebbe anche aver registrato qualcosa di utile per la nostra indagine Ah, accomodatevi pure Ma come farai? Lascia che se ne occupi lei, ok? Puoi far prendere quel coso a Legion senza problemi, no? Fai ciò che sai Ok, sì Vai, prendilo Ma io non capisco effettivamente come questi Legion collaborino col mondo Interagiscono col mondo Cioè, possono prendere le cose invisibili ma possono tangire anche le cose nel nostro mondo Però gli altri non le vedono, noi sì perché siamo collegati È solo il fatto che loro non lo vedono Però praticamente vedrebbero le cose spostarsi, sono dei fantasmi Ma come ha fatto? È una lunga storia Comunque sia guarda quel foro Questo drone non è andato in corto, è stato attaccato Beh, sì È un problema se diamo un'occhiata alle sue registrazioni? Credo di no, ecco Grazie mille Bene, vediamo che cosa abbiamo qui Beh, ho ciò per cui sono venuto Quindi me ne torno in centrale Grazie per l'aiuto ragazzi Possiamo vedere le registrazioni noi? Ah, eccola lì la registrazione Ok Ecco, vedi qualcosa di grosso ha colpito il drone in questo punto Qualunque cosa fosse ha colto il drone di sorprese Non ha fatto in tempo a rilevare alcun pericolo Ah no, pensavo che era alla registrazione Il polizotto qua Quindi forse l'attacco è stato portato da grande distanza La prova è il buco d'impatto sul drone A giudicare dalla posizione del danno e dell'angolazione del proiettile Direi che il colpo è stato sparato da là A mezz'aria Qualunque cosa abbia colpito questo drone era in aria anche essa È quello che si vince dal filmato registrato fino a subito prima dell'attacco Giunti fino a questo punto vediamo se riusciamo a scoprire qualcos'altro di utile Beh, io vedo lì Ah no, però aspetta, no Sono... Quelli sono i corvi, aspetta E questo allora che cacchio è? Qua c'è un pallone per terra E posso usarlo, no, ti prego Allora, facciamo un tanto che saliamo per la scala E ci sono i corvi, aspetta Parnaso 2, fermo Vedi però, i corvi hanno paura di lui Cioè, i corvi probabilmente è l'istinto animale Ehi, giovine, che stiamo facendo? Solo un momento, per favore, ho quasi terminato questo angelo Ma certo, aspetteremo qui con calma finché non aver finito di commettere il crimine Andiamo, sei nel resto Crimine, la mia opera delizia la natura stessa Questi corvi sono attratti dai miei angeli Anche loro devono rispettare la legge? Invece scommetto che i corvi sono attratti da quel cassonetto dell'immondizia Ma che stronzo che sei, Akira Ah, che ignoranza E comunque, gente, la mia opera non è finita Devo dirvi addio Aspetta Se qualcuno cerca di sfuggirti correndo in via il legion Ma ha tirato un pugno al mio cazzo di legion Bene, bene, il famoso artista Mani rosse dell'altra volta Da cui è uscito Lasciami, io devo dipingere Amico, stai calmo Dici un sacco di fesserie Neuron, grazie per l'aiuto Ora me ne occupo io Ma il cretino Sono sorpreso solo per il fatto che il coglione qui ha tirato un pugno al mio legion Ma proprio Pam Cioè, devo dire che comunque Non si vede un cazzo Perché è troppo luminoso Proprio è iridescente Ma è bello E i bambini qui? Vuoi vedere che i bambini Gli devo portare il pallone? Ragazzo sincero Ragazzo timido Ragazzo borioso Ragazzo vivace Ragazzo silenzioso E sono tutti e cinque Cosa siete? Tutti gemelli? State cercando qualcuno che scomparse? No, sappiamo qualcosa che potrebbe interessarvi Di che si tratta? Sì, ma piano Non si fa nulla per nulla Volete dei soldi? Ok, quanto? Soldi? No, no Davvero pensate di poter comprare con dei soldi le nostre informazioni Dovete risolvere un enigma Esatto Se risolvete l'enigma dei fratelli enigmistici super speciali Vi diremo quello che sappiamo Ok, sono cinque gemelli Ma se non rispondete bene non otterrete nulla Divertente, vero? Va, questo la lascio a te Risolvere enigmi non è mai stato il mio forte Solo fare l'antipatico sei forte, Akira Allora, che ne dici? Credi di poter risolvere il nostro enigma? Proviamoci Grande, allora cominciamo Urra! Si va! Le regole sono queste Ognuno di noi ti darà qualcosa Ma solo uno di noi dice la verità Tu devi ascoltare e ricordare attentamente E capire chi di noi sta mentendo E poi ti diremo anche cose come Sta mentendo dice la verità Ma solo uno di noi dice la verità Solo dopo che avremo finito tutti Avrai sentito abbastanza per decidere chi ha detto la verità Iniziamo Io sono il primo Allora Prendiamo appunti Sono il primo fratello Il quarto mente Il primo dice del quarto Io sono il secondo fratello Il quinto fratello dice la verità Il secondo dice che il quinto dice la verità Io sono il terzo fratello Il primo e il secondo hanno detto la verità Il terzo fratello dice che l'uno e il due dicono la verità Quindi finora il terzo dice che il primo e il secondo dicono la verità Quindi per ora quello che mente è il quarto Però ora lui parla Io sono il fantastico quarto Il terzo fratello ti ha mentito sicuramente Il quarto dice che il terzo mente Quinto io dico la verità e anche il terzo Porca troia Il quinto dice se stesso Ma anche il terzo dice la verità Cioè sono quasi tutti d'accordo che il quarto mente però Hai capito chi ha detto la verità? Prendi il tempo che vuoi per pensarci e poi fai sapere la risposta a uno di noi Quello che abbiamo è Il primo dice che il quarto mente Il quarto dice che il terzo mente Il terzo dice che il primo e il secondo dicono la verità Il secondo dice che il quinto dice la verità E il quinto dice che se stesso dice la verità Ma anche il terzo Vediamo se è vero la loro età Questo è nato a febbraio Questo a marzo Questo a giugno Questo ad agosto Ok le date sono quelle vere Per lo meno quello In teoria hanno tutti ragioni che è il quarto Che sta mentendo Hai capito chi ha detto la verità? Ehm Sì Bene è arrivato il momento della verità Qual è che il fratello non ha mentito? Sai che forse l'unico che ha detto la verità è il quarto Perché è stato preso di mira solo una volta Proviamoci Ha indovinato Yeee Wow gente Nessuno l'ha mai indovinato al primo tentativo E per questo ottieni il super premio speciale Ecco a te Beh io ho optato per il quarto Perché era l'unico Carica Legion Yes Era l'unico che è stato preso di mira una volta sola Ah giusto Ho detto che ti avremmo dato una mano nell'indagine no? Beh potrebbe non essere vero Ma c'è questa strana porta qui a Forest Amazon La cosa strana è che è soltanto un hologramma Cioè Che razza di porta è? Una porta rossa Yeee Una cosa così strana deve essere sicuramente importante per voi Utile? Una porta che in realtà è un hologramma Hanno ragione È talmente strano che vale la pena di indagare Grazie ragazzi Effettivamente l'enigma non era tanto Tanto scontato eh Non era tanto scontato perché effettivamente Hanno preso di mira solo una volta il ragazzino lì Qua la scala Posso Posso tirarla giù? No non ancora Probabilmente questo è uno shortcut E tra l'altro ci sono dei frammenti rossi in aria Ok intanto iniziamo a salire per tutte le scale Iniziamo a elevarci Altri frammenti rossi da recuperare Ah guardala qui Possiamo Recuperare I frammenti volanti In questo modo Tu mi credi vero? Vediamo Agente qualche tempo fa io stessa Ho visto il fantasma Ancora con questa storia Vuoi proprio essere lo zibra di tutto il quartiere Agente ti chiediamo scusa Noi non sappiamo niente di queste strane sparizioni Ok? Mmm Mmm Ok aspetta Ciò che ho visto era sicuramente un fantasma Ancora questo fantasma Nessuno crederà mai che ne ha visto uno Ma aveva un buco nel toraggio Non poteva essere umano E se era davvero un fantasma Allora è collegato alle sparizioni sicuramente Smettila ok? Se insisti penseranno che sei coinvolta anche tu Che cosa dovrei fare se ti arrestassero? Neanche io voglio finire in prigione Però ho paura Ho paura che il fantasma ti porti via da me Oh Senti anche se spunta fuori un fantasma Ti proteggerò io Non ti lascerò mai Te lo giuro Oh Va bene ti amo tantissimo Abbiamo preso tutto il possibile Spostiamoci altrove Ok aspetta Volevo finire di Volevo finire di dare un'occhiata in giro io Che cosa sappiamo? Ahah Beh certo è un fantasma Dai fammi le domande La porta rossa Ah che stupido è vero La porta rossa Ma porca troia ma dai Del buco del torace Va bene La porta rossa stavolta E io pensavo La porta rossa Porta il fantasma E poi tutti gli indizi Non volevo puntarmi su quello Cos'altro ha fatto? Non lo so L'uomo gatto Le sparizioni Porca troia Volevo dire il coso del drone Ma mi sembrava che non fosse la cosa giusta Sicuramente Non c'è neanche da pensarci Quello è vero Ho capito Oh sono stupido ora Ho preso una Incredibile Ho capito La chimera che potrebbe aver attaccato Potrebbe essere Il legion arciere Ah sei Ma c'ho la Guarda l'immagine Della mia faccia C'ho la spada puntata Che è qui Porca troia Potrebbe essere il legion arciere Ok Allora procediamo Sulla zona dell'indagine Ehi la Ma Ah è l'ologramma Certo Ed è cambiata la luce All'improvviso Allora Fermi un attimo Guarda quanta roba che c'è E abbiamo trovato una cesta Secondo me Medicina piccola Medicina media e piccola Ci ho indovinato alla fine Salve agente Scoprirei che a fine hanno fatto tutte quelle persone È vero Non vedo l'ora di assistere dal vivo alla cattura del colpevole Sarà meglio che in tv Vabbè certo Salve agente Salve agente Neuron Ci aspettavamo la vostra visita La scena è proprio lì dietro La scientifica si è già data da fare Quindi potete curiosare liberamente Grazie Allora Controlliamo Ok Ok È una signorina Posso guardare È proprio sparita All'improvviso qui Tu Sai qualcosa Gli indizi sono tutti qui Sicuramente c'è stato un qualche tipo di attacco Ma a parte questo Oh scusate Mi stavo cercando di venire a capo di questa teoria In pochi indizi che abbiamo Non abbiamo novità per trovare la vittima Sarà molto dura Ebbè certo Tu invece Come ve la passate Le altre sfere non vedono l'ora Che il caso di queste sparizioni Venga risolto Rastrellate la scena del crimine Così dicono Come se non l'avessimo già fatto Non c'è più niente che da scoprire Qua invece Oh i mi hanno spostato Però poi è scomparsa Nessuna impronta per voi Beh posso usare il mio legion Per trovarla La direzione probabilmente Già È una roba Strana Deve essere il punto Dove è uscita la chimera Visto È quello che volevo fare Mannaggia Analizzala Sì come l'altra volta Sicuramente Va bene Seguiamo le tracce Allora Vieni bello Dobbiamo Inseguire Uno stronzone Però fermo un attimo Vorrei vedere un'altra cosa Prima di proseguire Volevo vedere Se c'era modo Per salire qua sopra Per prendere Quella materia Cremisi Che c'è là Aspetta 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 Forse ho capito Come fare E forse In realtà è più semplice Di quello che pensavo No Oh calmo Posso saltare Sì Posso farlo Perfetto Akira Quanto mi dispiace Abbiamo trovato Anche una cesta Materiali comune Va bene Grazie Non mi sembra Ci siano altre zone In alto Da poter visitare Forse Aspetta In realtà Sì In realtà Posso andare Da questo lato Vieni di qua Entra dentro Bravi Bravissimo Ecco fatto Stavo per dire Ecco Meno male Ce l'abbiamo fatta Vediamo Medicina media Caricatura Indicatore Aspetta Tra l'altro Avevamo mica trovato Abbiamo ottenuto Carica legion Ok Con zl premuto In clean air Per inviare legion Per danni all'impatto E guarda caso Lassopra C'è un'altra Piattaforma Allora Vediamo Se ci posso Arrivare Ok Ci arrivo Perfetto Torna da me Tu Occhiali quadrati Montatura Lenti chiare Uh Bello Abbiamo trovato Un equipaggiamento Beh Questo aumenta Moltissimo L'esplorazione È una cosa Che apprezzo Va bene Intanto Proseguiamo La nostra Esplorazione No Dove vai Di qua Scusami Ok Sì sì Ti sento Accidenti Ho azionato Per sbaglio La chiusura Elettromagnetica Sono bloccato Qui da ieri sera Per favore Fammi uscire Deve essere questa La chiusura Di cui parlo Non penso Sia sufficiente Romperla Forse Può servirti Del legion Ecco fatto Grazie mille Avevo quasi perso Ogni speranza Di rivedere La luce del giorno Ma per quale motivo Sei rimasto bloccato Lì dentro Non dirmi Che sei un ladro Che cosa No Vedete Ieri sera Passavo di qui Verso le 9 E ho sentito L'urlo Di una donna Attenzione Sapete anche voi Delle voci Che circolano Ultimamente Su un fantasma No Beh ero terrorizzato Allora sono corso A nascondermi Nel posto più vicino E il resto Potete immaginarlo Hai sentito L'urlo Di una donna È proprio Verso le 9 Di ieri sera Potrebbe trattarsi Della nostra vittima Vittima Quindi le voci Sono vere Beh grazie mille Per l'aiuto è tutto Posso andare no Perfetto 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 Aspetta un attimo Fammi vedere Siamo a 4 missioni rosse E 11 su 15 blu Scusa un attimo Scambio di fratelli Ah ma c'è un'altra missione Dei bambini Allora aspetta un attimo Prima di proseguire Perché mi urta La scena delle missioni incomplete A me Scusate avete un'altra missione Per me Perché non l'ho vista finora Ah se tu la gente di prima Indovina un po' Abbiamo un nuovo enigma Che ne dici Puoi provare a risolverlo Non credo che Da loro otterremo altre informazioni Ti va di partecipare Al divertimento Proviamo Scambio di fratelli Va bene divertiti Ma non dimenticare Che abbiamo ancora Un caso da risolvere Grande Allora ecco le regole Questa volta la sfida si chiama Chi è il maggiore Evviva Urra Magari l'hai già notata Ma tutti noi fratelli Ci assomigliamo parecchio Ma va Avrai già capito perché Esatto Ci scambieremo di posizione Tu dovrai capire Chi è il fratello maggiore E inoltre Cercheremo anche di parlare Nello stesso mondo Riuscirai a distinguerci Comunque Io sono il maggiore Guardami bene Ora che puoi Ricordati l'aspetto che ho Che aspetto hai E' uguale a tutti gli altri Cretino Bene che lo show cominci Il sincero è il maggiore Scambiamoci di posto Tocca a te adesso Chi di noi è il maggiore Dovrebbe essere facile Per noi Basterà Cosa sta facendo Akira Che sta facendo Ricoglionito Come abbiamo Gli altri casi 6 2 10 4 8 Chi era il 2 Tu Tu sei il maggiore Credi che io sia il maggiore Sì Indovinato Wow gente Sei davvero imbattibile Wow Ha indovinato Ragazzi non prendetevela in fondo Risolvere il misteri E' il nostro caso E' il nostro lavoro Accidenti Non credevo che avremmo perso Comunque non c'è problema Sappiamo riconoscere la sconfitta Manteniamo sempre le promesse Ecco il premio agente Tro sei meritato Clink Grazie per aver partecipato Danni Evocazione 30% Quella Attenzione Sono Qua è stata una cazzatissima Però sono contento Di aver vinto Bambini del cazzo No dai poverini Danni da evocazione L'onda d'urto dopo aver evocato il legion Danno 30% Superarmatura omega I danni gravi non hanno effetto stordente sul giocatore Sul legion Quella Cura sincronica 0,6% PS giocatori Su del 0,6% Dopo un attacco sincronizzato Allora Certo quella ricarica all'8% E' Comunque ottima Ma Danno da evocazione E' non essere storditi Secondo me E' tutto di guadagnato Assolutamente Ok Ora possiamo effettivamente Ricontinuare la nostra indagine Da questo lato Allora fammi vedere Cosa c'è nascosto di qua Un sacco di materia cremisi Ecco che cosa E' un oggetto Vediamo Una medicina grande Ovviamente Le medicine per qualche motivo Le devo sempre restituire Bastardi infami Donna malata Non mi sento bene Ah Ah L'abbiamo ripulita L'abbiamo ripulita Dalla decontaminazione Ora va un po' meglio Ultimamente abbiamo sempre più malati Di cui prenderci cura Il numero di pazienti Ha aumentato molto proprio Sono iniziate le sparizioni Che le due cose correlate Sicuramente Ok Quindi se vedo una persona Un po' rossastra La devo decontaminare Perfetto Buono da sapersi Beh Sono sicuramente Punti contaminazioni Che ci prendiamo Buon per voi eh Sono contento Di avervi aiutato Ecco fatto Ora la porta è aperta Ma si deve proseguire da qua Tra la Ah si Bisogna proseguire da qua Non ci avevo fatto neanche caso Io Ci sono un sacco di scale Alzate Secondo me Sono tutti shortcut Qua tocca a me Proseguire invece Quale tubatura Ah questa tubatura Quella calmo E' impazzito il cretino Cretino di merda Stai Stai buono Stai lì nel tuo Che il tuo Lì già l'hai perso Che sta di cazzo Ok Intanto Oh ok Io non posso proseguire Di qua O meglio Posso farlo Ma andando Con molta attenzione Voglio questo oggetto E lo prenderò Calmati Calma Un codice materiale Comune Va bene Niente di eccezionale E un sacco Di alta materia Cremisi Altro tubo Eccolo là Il portale Va bene Tu aspettami qua E io vado Beh Di sicuro Non stavo qui con te Io Non stavo